In questa puntata ci occupiamo del famoso Donald Winnicott, che è sicuramente uno degli autori che si studiano in Psicologia dello Sviluppo, insomma non si salta mai Winnicott perché è stato un autore molto importante per la Psicologia dello Sviluppo. Allora lui è vissuto tra il 1896 e il 1971 ed è stato uno psicoanalista e pediatra britannico, quindi era anche un pediatra. Quindi chiaramente lui si è focalizzato maggiormente sui bambini, ha ripreso la concezione di Ferberna, di cui abbiamo parlato nella scorsa puntata, sull'influenza dell'ambiente, cioè su quanto è importante l'ambiente per lo sviluppo del bambino. E tre sono sostanzialmente i concetti fondamentali della teoria di Winnicott, il concetto di vero sé, il concetto di oggetto transizionale e l'importanza dell'unità madre figlio. Quindi dotata poi di tre aspetti, di tre funzioni che sono l'holding, l'handling e l'object presenting che vedremo poi più avanti nel corso della puntata. Allora iniziamo adesso a vedere quali sono i punti chiave del pensiero di Winnicott partendo dal concetto di self, cioè di sé, ovvero che cos'è il sé? È l'esperienza della soggettività, cioè il riuscire ad un certo punto della propria infanzia a dire io sono, io mi percepisco, so chi sono e io mi definisco. Quindi l'esperienza della propria soggettività, il self in inglese, il sé in italiano, è un evento, un punto fondamentale nella teoria di Winnicott e poi vedremo, perché adesso vediamo quali sono gli elementi fondamentali, poi vedremo esattamente come si sviluppano le varie parti e come si intersecano all'interno della teoria di Winnicott. È proprio il rapporto con la mamma che rende possibile l'interiorizzazione del proprio sé nel bambino, ossia un oggetto reale che è la madre contribuisce alla personalizzazione del potenziale istintuale psichico del bambino verso l'individualità. Quindi è la madre attraverso il suo attaccamento, quindi il suo aiuto al bambino, anche il rispecchiamento, che consente al bambino di interiorizzare il proprio sé e passare così dalla dipendenza all'indipendenza mediante quelle che sono le cure materne e il soddisfacimento dei bisogni specifici del bambino. Quindi abbiamo un sé che è un'esperienza della soggettività, un diventare sé che avviene grazie al rapporto madre-bambino, dove la madre crea il proprio bambino fisicamente ma anche psichicamente e c'è uno sviluppo del bambino che passa da una fase di dipendenza ad una fase di indipendenza. Questo lo diamo già per assodato perché altri autori che abbiamo già visto hanno parlato, per esempio anche la Mahler ha parlato proprio di questo passaggio da dipendenza all'indipendenza, l'autonomia. E un'ultima cosa fondamentale è quella che lui chiama preoccupazione materna primaria, che comprende tre funzioni che adesso vedremo. Cioè la preoccupazione materna primaria è fondamentale nei primi mesi di vita proprio per consentire la crescita del bambino, cioè una mamma che il cui centro di vita è proprio il proprio figlio ed è un po' quello che succede, insomma è successo anche a me, quando nasce tuo figlio sei nei primi mesi sei proprio preoccupata e ti prendi cura solo ed esclusivamente di lui, cioè tutto ruota attorno alla sua vita, alla sua crescita per poi piano piano iniziare ad una spostarsi ad una fase meno autocentrata sul bambino. Però il primo momento è proprio una preoccupazione materna primaria, cioè la primaria preoccupazione della madre è proprio il figlio. Ci sono tre funzioni dell'unità madre-bambino secondo Winnicott che sono l'holding, che è l'integrazione, l'handling che è la personalizzazione e l'object presenting che è la presentazione degli oggetti. Vediamo l'holding che facilita l'integrazione perché il bambino alla nascita sperimenta una non integrazione, quindi vive frammenti di esperienza diffusi e non continui. Questo significa che il bambino che non ha ancora sviluppato una propria coscienza, un proprio io rudimentale deve ancora svilupparlo, deve comprendere, fare, prendere i pezzetti dell'esperienza che vive e cercare di integrarli insieme. L'handling invece consente l'insediamento della psiche nel corpo, dove i confini del corpo sono anche quelli della psiche perché ricordiamoci sempre che il bambino prima di tutto si percepisce come corpo, percepisce il proprio corpo, il mal di pancia, la manina che si muove, le gambine che si muovono, eccetera. Quindi l'handling consente proprio l'insediamento della psiche nel corpo, cioè la capacità di percepirsi non solo come corpo, ma anche come psiche. Ed infine abbiamo l'object presenting, cioè gli oggetti vengono presentati come se fossero il bambino stesso a crearli, quindi il bambino percepisce, pensa di creare degli oggetti che magari arrivano dal nulla. Il bambino desidera il seno materno in questa fase e se ovviamente la madre è empatica, il seno gli appare improvvisamente come soddisfacimento di questo bisogno. Vediamo adesso proprio nello specifico alla teoria dello sviluppo del bambino, perché all'inizio abbiamo visto i concetti chiave della teoria di Winnicott, che magari adesso vi sembrano un po' slegati tra di loro, ma a mano a mano che vedete la lezione capirete meglio tutti i vari concetti, proprio perché adesso vediamo la teoria dello sviluppo emozionale nel bambino, che avviene nei cinque e sei mesi di vita ed è costituito proprio da alcune fasi. Vediamo proprio i tre processi di sviluppo nel bambino, che passano dalla dipendenza all'indipendenza, dalla non integrazione all'integrazione, dall'inorganizzazione all'organizzazione. Quindi iniziamo dalla dipendenza all'indipendenza, cioè si parte da una dipendenza assoluta con la madre, che deve essere, questo è un termine proprio coniato da Winnicott, sufficientemente buona. Perché sufficientemente buona? Vuol dire che deve essere in grado di rispondere in modo coerente e in modo supportivo all'esigenza del bambino. Il bambino esiste quindi solo nella relazione con la madre in questo momento. Vi è una fase poi di dipendenza relativa, come vedete nella slide, dove il bambino è consapevole dei suoi bisogni, quindi inizia ad essere consapevole dei propri bisogni di indipendenza e può sopportare brevi periodi di separazione con la mamma. Poi c'è una fase di indipendenza che si raggiunge intorno alla pubertà e nell'adolescenza. Quindi questo sviluppo che vedete qui, dalla dipendenza all'indipendenza, parte dalla nascita fino ad arrivare poi al completamento nell'adolescenza, quando il ragazzino inizia ad essere veramente indipendente, anche proprio a livello emotivo, a livello relazionale. Però poi, secondo Winnicott, c'è un passaggio che non è solo legato alla dipendenza e indipendenza, ma anche dalla non integrazione all'integrazione. Quindi c'è un secondo sviluppo che va da questa non integrazione all'integrazione, mediante un percorso graduale che conduce alla personalizzazione. Che cos'è la personalizzazione? È una saldatura tra la psiche e il soma, perché come ho detto poco fa, all'inizio il bambino percepisce solo il proprio corpo, quindi non c'è ancora un nodo rudimentale che si sviluppa nel corso dei mesi, una coscienza di sé, una psiche diciamo così, il bambino all'inizio si percepisce solo come soma. Poi inizia ad esserci piano piano un percorso di collegamento tra psiche e soma. Tra ho mal di pancia, sono arrabbiato, faccio questa cosa, sono triste e sento nel mio corpo la tristezza. Quindi c'è una saldatura del sentimento con l'espressione del corpo. Un ultimo sviluppo del bambino va dalla inorganizzazione all'organizzazione, cioè l'inorganizzazione è uno stato intermedio tra la simbiosi e l'identificazione, quindi non coincide con il primo termine perché il bambino ha già una qualche sua forma di individualità nel ventre materno, ma non siamo neanche alla fase in cui compare la consapevolezza di essere in due e la madre comincia a identificarsi nei gesti del bambino, quindi in sostanza si parte da una inorganizzazione di sé, che è quella che parte dal ventre materno perché già il bambino è inorganizzato, cioè non riesce ad organizzare i propri pensieri, anche la propria consapevolezza, e poi si passa invece all'organizzazione di sé con una maggiore consapevolezza, per esempio, della diade madre-bambino. Questi sviluppi emozionali, che sono dalla dipendenza all'indipendenza, dalla non integrazione all'integrazione, dall'inorganizzazione all'organizzazione, vanno ovviamente a braccetto, per cui il fatto di essere indipendente e inorganizzato e non integrato all'inizio porta poi ad una maturazione di questi aspetti in contemporanea, quindi una maggiore indipendenza porta ad una maggiore organizzazione. E quindi appare evidente il perché Winnicott sottolinea che lo stato di preoccupazione materna debba essere temporaneo e di volta in volta cedere il posto al recupero da parte della madre e della sua organizzazione, perché all'inizio la madre sospende, mette in pausa la propria vita per vivere in funzione del proprio figlio. Quindi è una fase, diciamo, che non deve durare tanto tempo, quindi questa condizione, che è una condizione assolutamente normale, fisiologica, è una forma costruttiva, diciamo, di follia temporanea che permette alla madre di sospendere la propria soggettività per diventare il mezzo attraverso il quale si sviluppa la soggettività del bambino. Quindi io metto, io come mamma metto in pausa la mia soggettività, il mio ego, il mio io, il mio sé, perché in questo momento di follia temporanea sana concedo, faccio in modo che si sviluppi la soggettività del mio bambino. È chiaro che questa follia costruttiva, questa preoccupazione materna primaria deve durare temporaneamente, non deve essere qualcosa che poi dura fino a la gioventù, addirittura fino in altre epoche che non sono proprio la prima infanzia. Quindi questa preoccupazione materna primaria avviene in modo assolutamente normale e fisiologico nelle prime fasi di vita del bambino, proprio perché la madre, e questo avviene proprio in modo abbastanza naturale, focalizza la propria attenzione sul suo bambino. Poi la mamma piano piano esce da questa follia e il bambino capisce di non essere onipotente, ma che la madre ha anche dei propri bisogni, anche dei propri desideri e questo fa sì che il bambino inizia a sentirsi dipendente e ad essere consapevole che ciascuno a sua volta ha bisogno dell'altro. Quindi, e poi anche una cosa, che ciascuno ha una sua propria struttura soggettiva e che quindi l'appagamento dei propri desideri richiede delle trattative con le altre persone, tu non puoi essere onipotente. Quindi il bambino che all'inizio è abituato a vedere la propria mamma super responsiva, sempre presente, sempre attenta, eccetera, capisce ad un certo punto che non è onipotente, che anche la mamma ha la propria soggettività e che deve iniziare una trattativa per cercare di avere il soddisfacimento dei propri desideri. Quindi all'esperienza infantile dell'onipotenza soggettiva, dove il bambino pensa di avere creato l'oggetto desiderato e pensa anche di averne pieno controllo, si aggiunge, si raggiunge ad un certo punto un'altra esperienza, che è quella della realtà oggettiva, dove il bambino pensa di aver trovato l'oggetto desiderato, anche rendendosi conto che questo oggetto è separato da lui e non può controllarlo. E questo è un passaggio importante, l'ambiente di cura che la madre offre al bambino consente l'emergere del sé, della soggettività della persona. E in particolare ci sono due secche, adesso vediamo nella prossima slide, però ci tengo proprio a specificare che è importante che la madre superi questa preoccupazione primaria, perché altrimenti si rischia che se la mamma continua a riversare tutte le sue attenzioni sul bambino senza sviluppare la propria soggettività, c'è proprio il rischio che il bambino continui in una fase di un'impotenza soggettiva della serie, la mamma è sempre qua, la mamma mi dà sempre attenzioni, la mamma mi dice sempre di sì, la mamma appena la chiamo viene e quindi non si sviluppa quella che è la realtà oggettiva. Vediamo adesso il vero sé e il falso sé, che è un altro concetto importante di Winnicott. Vedete che io vi ho messo proprio due aspetti, uno che va da una parte e uno che va dall'altra. Allora il vero sé si sviluppa in un ambiente materno, empatico e sollecito, quindi dove la mamma empatizza, quindi comprende le emozioni, le sensazioni, ma anche i desideri del bambino e li aiuta, aiuta a soddisfarli. Il falso sé invece si sviluppa in un ambiente incapace di sostenere la crescita del bambino, con la funzione di proteggere il vero sé. Quindi il falso sé è di fatti un ruolo che il bambino recita solo per aderire ad un'immagine imposta dall'esterno. Quindi il falso sé è un ruolo, come se a teatro tu ti metti addosso una maschera, un ruolo che il bambino recita. Perché lo recita? Perché deve comunque in qualche modo sopravvivere all'esterno, deve aderire ad un'immagine che gli viene data dall'esterno. E quindi il bambino assume questo falso sé, perdendo però la sua propria spontaneità, cioè il classico, fai il bravo bambino, devi fare così, devi fare colà, devi comportarti in questo modo. E quindi in questo caso si sviluppa un falso sé, dove il bambino recita la parte, ma non è la sua parte, non è, non fa parte del suo carattere, non fa parte, pensiamo per esempio a due fratelli, dove si dice al fratello più piccolo devi fare, devi essere, devi fare, magari non glielo si dice così, però ve la traduco in modo inconscio della serie, devi fare e devi essere esattamente come tuo fratello. Il problema è che poi si sviluppa un falso sé per cui il fratello minore magari assume un falso sé proprio perché recita una parte che non è la sua, perché lui non è come suo fratello. Ecco questo è il vero sé e il falso sé. Accanto a queste due esperienze abbiamo lo sviluppo del sé che parte quindi dall'onipotenza soggettiva che abbiamo già visto e l'esperienza transizionale. Quindi Winnicott all'interno dello sviluppo del sé tra l'onipotenza soggettiva e la realtà oggettiva inserisce anche un'esperienza transizionale che lui descrive proprio a metà strada tra le due parti. E nell'esperienza transizionale si pone quello che viene chiamato oggetto transizionale. Che cos'è? È la famosa copertina di Linus, è qualcosa che non è creato, è un ponte tra l'esperienza di dipendenza e l'esperienza di separazione che aiuta il bambino proprio nella separazione. Quindi si trova, cioè l'oggetto per esempio è il pupazzo del cuore, è la copertina, la famosa copertina di Linus. Perché ci serve questo? Perché permette gradualmente al bambino di poter accettare la separazione. È per quello che spesso si utilizza questo oggetto che può essere appunto il peluscino da lasciare nel letto intanto che la mamma va di là a lavare i piatti, tu ti addormenti con il tuo peluscino, che rappresenta proprio quello che Winnicott chiama oggetto transizionale. Allora Winnicott non sostiene che tutti i bambini ricorrano all'oggetto transizionale, perché lui si limita ad osservare che è una premessa evolutiva che favorisce nel bambino la capacità proprio di accettare quella che è la separazione, facendo uso di un oggetto che simboleggia la mamma o il papà, simboleggia la carezza, la coccola, è un supporto, l'animaletto del cuore è un supporto, favorisce l'illusione che sia il bambino stesso a crearlo, conquistando quindi per sé lo spazio vitale di transizione tra il dentro e il fuori. Quindi Winnicott concepisce l'oggetto transizionale non tanto come un oggetto concreto, ma come un oggetto simbolico, qualcosa di importante che aiuta il bambino a separarsi, a ottenere quella separazione, a raggiungere quella separazione dalla mamma o dal caregiver e diminuire quell'angoscia di sentirsi separato, di non sentirsi vicino. È importante che i genitori non mettano in discussione l'oggetto transizionale e ne accettino sempre la sua ambiguità, questo suo aspetto. Il bambino potrebbe anche parlare con l'oggetto transizionale, potrebbe accarezzarlo, potrebbe sviluppare quel gioco simbolico importante, proprio perché quel animaletto, parlo dell'animaletto ma potrebbe essere veramente una copertina, un cuscino, rappresentano per lui veramente una costola della mamma, una costola del caregiver e che aiuta proprio a differenziarsi e a raggiungere una maggiore autonomia. Allora, gli esperimenti svolti affermano che i piccoli già a tre mesi sono sensibili agli aspetti del mondo, che dipendono dalle loro emozioni, dalle loro azioni. Ad esempio il movimento della mano provoca il suono del suonaglietto. Questo è un primo aspetto importante nei tre mesi di sviluppo. Il bambino si rende conto che il proprio movimento della mano provoca il suono del suonaglietto e quindi il movimento del suonaglietto provoca il suono. Quindi capisce di essere un agente che fa qualcosa e c'è una causa e una conseguenza, cioè io con la mia mano scuoto il suonaglietto e questo suona. Tra l'altro gli studi confermano che Winnicott ha osservato, cioè quello che Winnicott ha osservato rispetto al fatto che il nonato è qualcosa che non esiste, perché esiste un'unità duale mamma-bambino e questo è fondamentale. Gli esperimenti confermano proprio che il bambino si sente parte della diade, di un'unità duale, quindi si sente parte unita con la madre. Però è anche importante sapere che il bambino è attivo sin da subito nello scambio sociale, non è passivo come alcuni pensavano. E sono importanti le cure materne da parte di una madre sufficientemente buona, questo lo abbiamo già detto, ad esempio con il riferimento poi alla sicurezza dell'attaccamento di cui parliamo nel video su Bolvi. Interessante perché su 100 scambi mamma-bambino si è visto che più della metà sono scoordinati tra loro, cioè sono imperfetti, non sono coordinati. A tal proposito recentemente si è appurato che se gli scambi mamma-bambino sono troppo coordinati o invece al contrario troppo scoordinati indicano dei disturbi nella relazione, quindi è sbagliato anche la troppa coordinazione. Quindi è giusto trovare un giusto equilibrio tra una coordinazione e una scoordinazione. È giusto che ci sia un legame anche fallimentare nella relazione con la madre, perché il legame tra fallimento della madre e psicopatologia nel bambino trova riscontro in quelle ricerche che mostrano che le madri per esempio ostili, rifiutanti, fredde, sono associate a bambini adolescenti che sviluppano una depressione. Il ruolo privilegiato dato da Winnicott alla relazione mamma-bambino non è stato però provato, quindi sembrerebbe dalle ricerche che non ci sia necessariamente un ruolo privilegiato nella relazione mamma-bambino nello sviluppo dei gravi disturbi mentali. Quindi diciamo togliamo questa idea della colpa per forza della mamma nello sviluppo di gravi patologie. Sicuramente è importante l'ambiente che non è solo la mamma ma tutto l'ambiente ad influenzare il bambino e però ci sono anche aspetti genetici e altri aspetti che non sono solo legati e non sono solo di responsabilità dei genitori. La coppia genitoriale per Winnicott è proprio un contenitore, un contenitore c'è un cerchio allargato che unisce insieme, che ingloba anche il papà, cioè nella prima cerchia c'è l'unità mamma figlio, successivamente c'è il papà, è un po' come la matrioska, non so se avete presente, la matrioska dove c'è prima il bambino che viene inglobato dalla mamma e poi il papà che ingloba gli altri due, cioè li abbraccia. Quindi c'è un'interazione allargata e il ruolo genitorale è fondamentale, quindi non è soltanto la mamma ma anche il padre fondamentale per lo sviluppo del bambino. Vediamo adesso quelle che sono le tendenze antisociali. Winnicott ritenne che nel bambino la tendenza antisociale si manifesta attraverso l'enuresi, l'ingordigia, l'enuresi è farsi la pipì addosso, l'ingordigia vuol dire mangiare tantissimo e la bugia, quindi l'utilizzo della bugia nella relazione. E questo è legato alla differenza di deprivazione, cioè il fatto di sentirsi deprivato. Le tendenze antisociali partono da delle fasi. La prima fase c'è uno sviluppo normale, che è un normale processo di integrazione. Nella seconda fase invece il bambino viene disturbato da qualcosa. Quindi nella seconda fase interviene qualcosa che disturba il bambino e che in quel momento non tollera, per esempio l'assenza temporanea della mamma. Il bambino si difende manifestando per esempio segnali regressivi di malessere, come per esempio il farsi la pipì addosso, la cacca addosso o presentare una balbuzia transitoria. Questi sono dei meccanismi, delle tendenze, perché il bambino è disturbato. Oppure ancora può sviluppare delle condotte antisociali, come il furto, la distruzione o delle provocazioni, l'essere oppositivo provocatorio. Winnicott in questo caso parla di due tipi di perdita. La perdita di accomodamento, cioè della capacità di accomodamento materno ai bisogni del bambino, quindi la mamma non sa, non è che sparisce, ma non riesce a entrare in interazione con il bambino e accomodarlo, aiutarlo nel periodo di dipendenza. Per esempio può essere un periodo in cui c'è, viene la nascita di un fratellino, la malattia della madre, oppure la perdita tardiva di un ambiente indistruttibile. Quindi c'è una situazione in cui il bambino non si sente ascoltato, non si sente accolto. Nella terza fase invece abbiamo un bambino completamente angosciato, cioè se prima abbiamo nella seconda fase un bambino disturbato, qui troviamo un bambino completamente angosciato. Quindi il bambino è stato in difficoltà per diverso tempo e adesso non riesce più a tollerare queste cose. Il bambino si sente colpevole, si sente angosciato, sente dei forti sensi di colpa, si sente frustrato e qui si riattiva la primitiva angoscia mortale. Quindi qua c'è proprio una forte angoscia che può provocare, per esempio problemi d'ansia, problemi depressivi, fino ad arrivare alla quarta fase, dove c'è una riorganizzazione del bambino. Dall'angoscia il bambino deve riuscire a trovare delle difese, deve trovare a riorganizzarsi, però queste difese bloccano la sua spontaneità perché sono dirette a diminuire quegli impulsi vitali, a bloccare l'aggressività, a bloccare le paure e in questa situazione permane proprio uno stato di forte angoscia. Può succedere che l'ambiente cambi migliori rispetto ai segnali del bambino e quindi queste fasi, questo percorso può migliorare, insomma non peggiorare e attivare delle tendenze antisociali e poi lo sviluppo per esempio di un disturbo come può essere il disturbo antisociale o anche depressivo. Quindi il ruolo del genitore è sicuramente importante per riconoscere tutti i periodi di disagio del bambino e per poter attivarsi sin da subito per aiutarlo a risolvere questi problemi. Benissimo, io ti aspetto nella prossima puntata, ti invito ad iscriverti al mio canale, di attivare la campanella per le notifiche e poi ti aspetto anche sugli altri miei canali social.